Buongiorno, benvenuti a TG Newsletter Fashion Illustrated. Inaugura oggi a Verona e Chelsea or Milano, replicando il format di successo su una superficie di 3700 metri quadri nel cuore della città scaligera. Il progetto architettonico è stato affidato ad Aldo Cibic, mentre l'interior design porta la firma di Vincenzo De Cotis. Partner commerciale per la scelta dei brand di moda, dove spiccano i più bei nomi dell'abbigliamento e degli accessori, è la famiglia Galli di Folli Follie. Uno spazio importante è dedicato al food. L'investimento del gruppo Coin per il negozio eccelsio di Verona è stato indicato circa 9 milioni di euro. Claudio Marenzi, presidente di Erno S.P.A., è stato disegnato come nuovo presidente di Sistema Moda Italia. Una candidatura a questa approvata all'unanimità dall'odierna giunta di Sistema Moda Italia, composta da Carlo Alberto Corneliani, Marino Vago e Paola Zegna. La proclamazione ufficiale avverrà nell'Assemblea degli Associati di Sistema Moda Italia nel prossimo giugno. Claudio Marenzi ha ricoperto dal 1983 diversi incarichi nell'azienda di famiglia, prima come responsabile della produzione, poi responsabile commerciale e consigliere delegato, con la delega allo sviluppo strategico della comunicazione e responsabile del marketing aziendale. Giorgio Armani è lieto di annunciare l'apertura della sua nuova boutique Giorgio Armani in Canton Road, Tsim Sha Tsui, di Hong Kong. L'apertura del nuovo punto vendita è stata inaugurata mercoledì 13 marzo, con un cocktail party ospitato da Robert Armani, a cui hanno partecipato oltre 400 ospiti, tra cui erano presenti personalità e rappresentanti del mondo culturale ed economico cinese. Al cocktail party è seguita la preview della mostra Eccentrico, che è stata presentata l'anno scorso a Milano e anche a Tokyo e sarà aperta qui al pubblico fino al 17 marzo e sforrà 51 abiti delle collezioni Giorgio Armani e Giorgio Armani Privé. Per oggi è tutto, grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima puntata di KG Newsletter al Fashion Illustrator.